Paebra Caposciutti, consigliera dell'Ordine degli Infermieri di Firenze e Pistoia. Siamo qui a questa iniziativa, stanno per alzarsi le mongolfiere. Come nasce questa giornata? Allora, questa giornata nasce da una proposta della Ballunti in Italia che per gratificare l'operato degli infermieri ha pensato di offrirci questa possibilità di visibilità agli occhi di tutti. Questa iniziativa l'abbiamo accolta molto volentieri perché penso che sia molto importante perché noi abbiamo bisogno di rinforzi positivi per continuare la nostra direzione con dedizione e professionalità come facciamo sempre. E la gratitudine non è aspettata, quindi grazie alla Ballunti in Italia.